La discarica di Pianopoli riaprirà i battenti venerdì ma lavorerà a mezzo servizio almeno fino a martedì prossimo. La buona notizia è giunta nel primo pomeriggio dal Dipartimento per le Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. Ciò non vuol dire che l'emergenza rifiuti è stata superata. Infatti l'impianta accoglierà tra le 600 e le 800 tonnellate di spazzatura poco più di un terzo della quantità di rifiuti che si producono quotidianamente sul territorio regionale. Tradotti in cifre, 2.600 tonnellate. Continua intanto il braccio di ferro fra il governo Scopelliti e i cittadini di Scala Celi e Celico. Questi ultimi non hanno nessuna intenzione di lasciar passare i camion carichi di immondizia. I due siti della provincia di Cosenza, scelti come discariche temporanee, rimangono territorio off-limits. Sul versante tirrenico della circoscrizione Bruzia la situazione rimane ancora grave e in alcuni centri si parla ormai di emergenza igienico-sanitaria. Ieri l'assessore all'ambiente del comune di Tortora, Franco Chiappetta, ci ha spiegato che per evitare il blocco della raccolta, l'umido è stato conferito nell'impianto di Battipaia in provincia di Salerno. Un'operazione costosa, ha detto Chiappetta, ma era l'unico modo per scongiurare un disastroso blocco della raccolta differenziata. Da scalea in giù, invece, la spazzatura rimane in strada. È polemica intanto tra il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, e l'assessore all'ambiente della regione Calabria, Francesco Pugliano. Per Oliverio, Pugliano dovrebbe dimettersi dal proprio incarico. La risposta dell'assessore regionale non si è fatta attendere. Il presidente della provincia ha presentato, con otto anni di ritardo, un piano di gestione dei rifiuti per la circoscrizione che governa. Ma Pugliano ne ha avuto un po' per tutti, compresi il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e il primo cittadino di Rossano, Giuseppe Antoniotti. Quest'ultimo reo, secondo Pugliano, di aver bloccato il conferimento dei rifiuti nella discarica di Bucita per ben 15 giorni. E mentre la politica litica, la Calabria continua ad affogare nella spazzatura. Questa la cronaca dell'ennesima giornata di emergenza. Questa la cronaca dell'ennesima giornata.